Buongiorno Gian Massimo, buongiorno a tutti. Buongiorno Natalia, bentornata dopo un po' di tempo, quindi buongiorno a tutti. Grazie, sì, ormai ci vediamo con la primavera che ci sta salutando, per cui siamo molto felici. Allora, vediamo subito come sono andati i mercati ieri, nel senso che ci sono stati questi rialzi, per cui vediamo un attimino le percentuali di rialzo dei tre principali indici. Partiamo come sempre con il Dow Jones, che guadagna l'1,06%, per cui vediamo il grafico in modo di vedere un po' come si stanno muovendo queste candele. Poi andiamo a SP500, se ce lo vuoi far vedere anche sul grafico, che recupera l'1%, l'1,68%. In questo caso vogliamo vedere con te anche il fatto che aveva incontrato una resistenza nella sua media mobile a 200 giorni, per cui vediamo questo passaggio qua con te. Sì, c'è stato questo rimbalzo molto tecnico nati su questa resistenza che si era formata, che avevamo tracciato qualche giorno fa, indici ancora intrappolati all'interno delle proprie medie, in particolare per quanto riguarda l'S&P 500. Vedete che ci sono tutta una serie di notizie nel grafico che fanno capire in realtà molto bene come siano stati un po' il catalizzatore di questi movimenti. Vediamo un po', c'è stata questa media 200 periodi, che prima era supporto, adesso si sta comportando da resistenza, quindi il prezzo è ancora intrappolato su questi due livelli, il mercato è ancora molto instabile, abbiamo parlato di giro di boa nei giorni precedenti, giro di boa che non vuol dire nuovo mercato rialzista, vuol dire semplicemente la fine di quello che stava succedendo fino a quel momento, è un nuovo momento storico di mercato, che potrebbe ovviamente prendere direzioni diverse. Quindi staremo a vedere, sono giornate molto molto importanti, siamo in attesa ancora, bisogna pazientare ancora tanto, ma non tantissimo, nel senso che il 22 di marzo ci sarà l'assemblea, ci sarà il meeting della Fed, dove verranno prese delle decisioni. Una settimana fa Powell ha parlato di un aumento di 50 punti base, ora addirittura si parla di un potenziale, non ne ha parlato lui direttamente, ma i mercati, le grosse banche si aspettano un rallentamento, addirittura una pausa dell'incremento dei tassi di interesse per via di quello che è successo a tutto il settore bancario, perché un aumento ulteriore dei tassi di interesse sarebbe un po' in collisione con quello che è stato fatto, da una parte il salvataggio di una banca, dall'altra il tasso di interesse che andrebbe a distruggere le altre. Ovviamente non siamo immuni da potenziali sorprese, quindi vedremo un po' veramente che cosa succederà. Non dobbiamo inventarci nulla, non dobbiamo inventarci nulla, i nostri modelli di rischio iniziano a avere un carattere diverso ed è per questo che abbiamo parlato di Giro di Boa negli ultimi giorni, ma ancora mancano tanti pezzi. Sì, importantissimo questo passaggio. Giro di Boa non vuol dire che adesso ovviamente è tutto a favore, vuol dire semplicemente che è un cambiamento, e questo è un passaggio importantissimo che dobbiamo ricordare, per cui la lettura di questo momento è proprio in questo senso. Cambiamento rispetto a quello che stava succedendo, anche a livello ovviamente di trend, per cui stiamo a vedere ovviamente quello che succederà, però potrebbe andare in una direzione, ma anche nell'altra. Assolutamente. Assolutamente. Importantissimo. Chiudiamo invece con il Nasdaq, per quanto riguarda gli indici, che è l'indice che ha fatto meglio, con un più 2,14%, per cui lo vediamo qua, come ovviamente è in rialzo più importante rispetto agli altri. Passiamo invece alle notizie, segnalavi, parlavi già del settore finanziario, sicuramente in questo senso c'è stato un grande movimento in queste ore, una grande montagna russa per così dire, c'è una sorta di ripresa per quanto riguarda i titoli del settore finanziario, però tutto è in grande movimento, per cui andremo a vedere un attimino quello che succede. Nello specifico ti segnalo i rialzi di Goldman Sachs e di JP Morgan, per cui questi sono i due che hanno fatto, diciamo, segno positivo nella giornata di ieri. Eccoli qua. Vediamo proprio come il grafico ci sta proprio facendo vedere queste giornate in modo molto, molto chiaro, per cui una giornata da sola non vuol dire nulla, però sicuramente rispetto a quello che stavamo vendendo i giorni precedenti qualcosa è. Quello, la performance migliore che ti posso segnalare durante la giornata di ieri, per quanto riguarda sempre il settore finanziario, è quella di American Express, per cui se la vogliamo vedere anche in grafico, così ci facciamo un'idea più chiara di come sono andate le cose. Ecco qua. Ecco qua. Perfetto. Ecco, per cui questo è, diciamo, quello che è successo per quanto riguarda questo settore. Altre due notizie di cui possiamo parlare, che sono state importanti nella giornata di ieri, che ovviamente vengono da qualche giorno, da qualche settimana, sono i rendimenti del tesoro, che come abbiamo visto e commentato in queste settimane, hanno una proporzione, diciamo, una relazione molto diretta con quello che succede poi con gli altri titoli, no? Per cui man mano che gli acquisti dettati dal panico svaniscono, i rendimenti del tesoro salgono, per cui c'è questo ovviamente, questo passaggio importante che ha sempre una relazione non indifferente. Sì, Nati, aggiungo su questo passaggio che è molto importante. Abbiamo visto ieri sui tre principali, quelli di osservati speciali in questo momento, che sono il bond a tre mesi, a due anni e dieci anni. C'è stata una prima inversione dei rendimenti, fra i rendimenti del bond a due anni e quello a tre mesi, quindi già quello di più breve termine, e adesso è quello che si attende, che si aspetta, è in realtà il cambio di direzione, fra quello a due anni e quello a dieci anni. Quindi in questo momento il bond a due anni rende più di quello a dieci anni, quindi nel breve termine è ovviamente più conveniente, oltre che più sicuro, non tenere i soldi in banca, ma metterli in bond, visto che le banche hanno rendimenti negativi, con tassi di interesse enormi, con il rischio che stiamo vivendo in queste ultime ore, in queste ultime giornate, chiaramente è molto vantaggioso mettere i soldi in un bond di breve termine, come quello a due anni. Sappiamo anche che storicamente, lo abbiamo visto sei volte dal 1990 a oggi, tutte le volte che queste due curve si sono invertite nuovamente, ovvero quando il rendimento a dieci anni ha superato nuovamente quello a due anni, c'è stato effettivamente poi il vero crollo dei mercati. Stiamo aspettando di capire se questa è appunto un po' l'eccezione che confermerà la regola o ancora una volta la regola, quindi il 100% delle volte fino ad oggi è successo esattamente così, ovvero che all'invertire della curva c'è stato il vero crollo di mercato, quindi vedremo un po' che cosa succederà. Non mi stupirei, come sapete, che possa succedere, perché in realtà questo aiuterebbe a resettare un po' tutti i mercati. Quindi, di nuovo, grandi punti di domanda in questo momento. Sì, l'importante in questo senso è non avere delle convenzioni troppo rigide, per cui è semplicemente aver letto il mercato, capire quello che è successo in passato, come facciamo noi tutti i giorni, e poi però chiedere conferma ai grafici a quello che succede oggi. Per cui, come hai detto prima, non ci dobbiamo inventare nulla e questo è quello che ci dà più tranquillità nella nostra operatività quotidiana. Per cui assolutamente staremo a vedere anche questo passaggio qua. È molto interessante questo passaggio, aggiungo solo un pezzo perché poi ogni giorno succedono tantissime cose anche nel nostro gruppo, no? E negli ultimi ore è venuto pure l'argomento del voler ascoltare le opinioni degli altri, no? Siamo in un mondo dove il politically correct la fa da padrone e quindi questa necessità di sentirsi buoni nel voler ascoltare anche le opinioni degli altri. Nei mercati, secondo me, questa cosa non ha molto senso in realtà, ma non perché non abbiano valore le opinioni degli altri, perché in realtà le opinioni diverse fra me e te relativamente allo stesso titolo, allo stesso indice, allo stesso mercato, è ciò che va a costruire e a formare il prezzo. Quindi, fantastico che ci siano opinioni diverse. Il fatto che ci siano opinioni diverse e rispettarle non vuol dire doverle ascoltare semplicemente per il gusto di sentirsi in pace e giusti con se stessi nel voler ascoltare le opinioni degli altri. No, il mercato non se ne frega delle opinioni, quindi le opinioni che noi dobbiamo ascoltare sono quelle del mercato, non quelle degli altri, che sono due concetti simili ma totalmente diversi in realtà, perché il mercato ci dà il riassunto di quelle che sono il mix di tutte le opinioni e quindi quello è giusto. La tua opinione o la mia opinione presa da sola sono totalmente irrilevanti, quindi non sentitevi in dovere di dover per forza ascoltare le opinioni degli altri, sì in termini di curiosità, sì in termini di rispetto, perché è giusto che ognuno abbia le proprie opinioni, ma doverle ascoltare e prenderle per buone è assolutamente un altro discorso, quindi è un passaggio molto importante. Diciamo che l'unico che va ascoltato in questo caso è il mercato, potremmo anche stare tutti sentiti, semplicemente fare quello che le regole ci dicono e basterebbe, poi nel nostro caso ovviamente stiamo anche facendo una funzione di formazione, per cui ci capita di dover parlare, ma per il resto diciamo se l'obiettivo è quello di guadagnare sui mercati, basterebbe limitarsi a fare quello che ci dicono le regole e la strategia scelta, poi ovviamente ognuno sceglie in base a quello che pensa e questo ovviamente è assolutamente giustissimo, ma una volta scelto questo le chiacchiere stanno a zero, bisogna ascoltare le proprie regole, ogni giorno noi dovremmo svegliarci, metterci davanti ai grafici, in realtà non per noi perché siamo in Italia, è già pomeriggio quando aprono i mercati, e avere un'unica promessa, oggi ascolterò le regole del mio sistema, questa è l'unica cosa che dobbiamo fare. Esatto, esatto, assolutamente. Bene, allora l'ultima cosa, diciamo l'ultimo passaggio importante che ti posso riportare è questa leadership, da parte delle azioni delle megacup, per cui in questo caso ovviamente le megacup stanno riuscendo a, come dire, trasportare, guidare i mercati, per cui questo è l'ultima passaggio importante di cui parlerei oggi con te, se sei d'accordo. Assolutamente sì. E basta, questo è un po' quello che avevamo da vedere oggi, a questo punto ci vediamo domani, appuntamento sempre su TP Daily, però prima ricordare che questa sera alle 19 c'è un appuntamento molto importante sul nostro gruppo aperto, nel senso che in questi giorni abbiamo chiesto di porci delle domande, di chiederci se avete delle domande, dei dubbi, su qualsiasi cosa che riguardi il trading, ma anche noi stessi, i nostri percorsi, l'evento di maggio, qualsiasi, diciamo, perplessità che molte volte magari vi rimane in mente, magari non trovate il coraggio per fare quella telefonata, per rispondere ovviamente a quello che vi diciamo a livello più personale, questa occasione può essere molto utile per togliervi dei dubbi, per cui alle 19 in diretta ci troviamo sul gruppo di Facebook in modo di poter rispondere a tutto quello che ovviamente vi passa per la testa, che vi possa sembrare più o meno banale, a volte è molto utile per farvi un'idea su quello che facciamo, su quello che volete fare anche voi a livello di trading, a livello di mercati. Sì, abbiamo ricevuto oltre 50 domande fra i due gruppi, quindi alcune sono molto simili, quindi le metteremo in ordine e risponderemo a tutte e eventualmente se ci sarà tempo e spazio anche a quelle che arriveranno live, altrimenti comunque ne faremo anche un'altra, saremo felici di assolutamente rispondere. Vi ricordo anche che venerdì scade la promozione per i biglietti di Milano, quindi gli early bird, dopodiché non ci sarà, ci sarà ovviamente la possibilità di arrivare, ma aumenteranno i prezzi, quindi per chi magari ha ancora qualche dubbio, venite stasera, che nelle risposte troverete magari un po' di concretezza, parlate con il vostro tutor, in questo caso Natalia oppure Jonathan, scriveteci, fate domande e approfittatene, perché sarà un intervento e un evento molto molto importante, perché andremo a spiegare poi il perché siamo anche stati in grado negli ultimi due anni con una precisione abbastanza elevata, in realtà molto elevata, perché dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di mercati, dove essere precisi è veramente qualcosa di difficile, e quindi tutte le volte che in realtà ci ritroviamo a essere investiti nei momenti migliori, essere disinvestiti, proteggendo il capitale, nei momenti peggiori, è il sogno di tutti, in realtà è il sogno di ogni trader, è il sogno di ogni investitore, quindi spiegheremo e parleremo del perché siamo riusciti a fare questa cosa in maniera molto 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 dettagliata, ci sono delle cose che succedono nei mercati, che almeno definite anomalie, che non sono visibili agli occhi di tutti, semplicemente guardando quello che sta facendo il mercato, bisogna sollevare il tappeto e vedere cosa è stato nascosto sotto quel tappeto per avere una lettura più precisa e capire se la casa è pulita oppure no, e quindi questo è quello che faremo a Milano, quindi venerdì ci sarà la scadenza degli early bird con il prezzo assolutamente scontato, quindi molto molto importante veramente per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, chi non ha esperienza, chi è esperienza, chi è già un cliente, chi non è un cliente, chi ha i dubbi, chi non ha i dubbi, chi ha deciso di iniziare magari a tradare nei mercati ma ancora non è convinto e si sta guardando intorno perché magari l'immobiliare eccetera, ecco sarà anche un evento anche per voi per farvi capire se effettivamente è un argomento e un mondo che può fare per voi oppure semplicemente no, quindi l'investimento di due giorni di tempo può risparmiarvi letteralmente dieci anni di ricerche inutili e di lavoro che abbiamo già fatto noi per voi, quindi molto molto importante. Esattamente, perfetto, direi che ci possiamo salutare, come sempre è un piacere, ti auguro una buona giornata e l'auguro a tutti quanti. Grazie a te Natalia, ci vediamo stasera alle 19 e domani con il nostro prossimo TP Daily, quindi buona gestione del rischio a tutti.